cosa faresti se domani il mondo non avesse energia elettrica avrai sentito dire che un fenomeno del genere può essere scatenato da una tempesta solare ma hai una vaga idea di quale sia la situazione sul sole in questo momento io non voglio allarmarti ma la nasa non è di questo avviso in quanto ha fatto annunci abbastanza preoccupanti sulla situazione in questo video voglio fare il punto della situazione e voglio chiarire molto bene lo scenario purtroppo apocalittico che ti aspetta se la nostra stella si arrabbia sul serio e si sta arrabbiando prima di iniziare questo viaggio come sempre ti chiedo di iscriverti al canale a te non costa nulla ma per me è molto importante grazie adesso tuffiamoci nel sole partiamo dal fatto più recente al momento della creazione di questo video ovvero l'annuncio della nasa nel suo sito ufficiale di un brillamento solare di classe x avvenuto il 31 dicembre 2023 inoltre la nasa c informa che sta registrando un periodo di brillamenti solari tra i più potenti e inquietanti degli ultimi anni scienziati e studiosi avvertono che il biennio 2024 2025 sarà il biennio in cui il sole c mostrerà tutta la sua potenza raggiungendo quello che il gergo viene definito massimo solare nel nuovo continente ne stanno parlando moltissimo e con una certa preoccupazione quindi adesso ti chiedo secondo te siamo una fase di puro ed infondato allarmismo o dovresti seriamente preoccuparti ti risponderò io a questa domanda più avanti nel video adesso facciamo il punto della situazione cercando con parole semplici di capire prima di tutto l'origine del problema in modo da comprendere i dati che ci fornisce la nasa dopo affrontiamo nel dettaglio le conseguenze e le possibili soluzioni quindi prima di tutto sai cosa è una tempesta solare le tempeste solari consistono in violente esplosioni di plasma e particelle cariche chiamate brillamenti e cosa più importante espulsioni di massa coronale quando il ciclo solare ovvero l'attività magnetica del sole raggiunge la sua massima attività si verifica una tempesta solare queste esplosioni producono vento solare e particelle cariche che si diffondono verso il nostro pianeta alla velocità prossima a quella della luce una volta entrato nel campo magnetico terrestre il vento solare produrrà una tempesta geomagnetica che durerà per diversi giorni causando disturbi nel campo magnetico terrestre portando aurore e interruzioni nei sistemi di comunicazione e navigazione questo per spiegartelo nel modo più semplice possibile se avete dettagli da aggiungere vi esorto a farlo nei commenti detto questo adesso dobbiamo capire l'entità di queste eruzioni cercando di comprendere la loro unità di misura quindi cosa significa un'eruzione di massa coronale di classe x le classi di brillamenti solari in ordine crescente di potenza sono a b c m e x ogni classe è dieci volte più potente della precedente con la classe x che rappresenta i brillamenti più potenti ma cosa significa questo in termini pratici cosa ci succede se veniamo investiti da un abbrillamento della classe più alta a livello visivo uno spettacolo da togliere il fiato ad esempio potremmo assistere al fenomeno delle aurore boreali fin qui in italia o addirittura più in basso ma il bello finisce qui dopo aver abbassato il naso potremmo doverci mettere le mani nei capelli sul sito ufficiale del noa ossia del national oceanic and atmospheric administration e scrivono che poiché la meteorologia spaziale ha impatti fisici diretti limitati sulla terra la maggior parte delle azioni intraprese durante una tempesta solare mirano a mitigare gli impatti secondari di un evento come interruzioni di corrente perdita di approvvigionamento idrico eccetera la tempesta vera e propria può durare da qualche minuto ad alcune ore ma gli impatti risultanti possono durare da ore a settimane o più la conservazione durante e dopo una tempesta è fondamentale nel raro caso di una tempesta estrema sottolineo che su uno dei siti più attendibili che ci sono sull'argomento stanno chiaramente dicendo che ci saranno problemi relativi all'approvvigionamento idrico ed energetico oltre che alle comunicazioni prima di immaginare lo scenario peggiore voglio chiarire che se stai pensando che un evento del genere non sia possibile o almeno estremamente raro sappi che ti sbagli perché è già successo l'evento di carrington registrato il primo settembre 1859 è considerato la più grande tempesta geomagnetica o solare mai osservata questo fenomeno prende il nome dall'astronomo inglese richard carrington che lo osservò mentre studiava le macchie solari carrington notò un brillamento di luce estremamente potente sul sole causato da un'espulsione di massa coronale una liberazione massiccia di plasma questo fenomeno generò una tempesta geomagnetica di magnitudo senza precedenti che causò notevoli disturbi alla rete telegrafica dell'epoca e produsse un'aurora boreale visibile anche a latitudini insolite come roma e cuba che succederebbe se si oscurasse internet per 14 ore forse nel tuo piccolo nulla al massimo potresti non guardare questo video ma su scala mondiale sarebbe una mezza apocalisse pensa solo che senza il controllo dei satelliti cosa potrebbe succedere in ambito militare senza parlare del sistema bancario del sistema sanitario ma ci arriviamo tra poco la maggior parte delle eruzioni solari sono abbastanza deboli e quando ci coinvolgono non provocano altro che bellissime aurore boreali quelle più forti invece si verificano ogni 10 o 20 anni e colpiscono quasi sempre i poli causando solo piccoli disagi circoscritti a quelle zone pressoché disabitate la questione fondamentale è che le nostre registrazioni risalgono a meno di 200 anni fa di conseguenza non abbiamo dati sugli intervalli temporali precedenti all'evento di carrington questo impedisce di determinare cosa accade a intervalli di 200 o 300 anni in termini di brillamenti solari questo potrebbe farci trovare impreparati sì senza dubbio vediamo cosa potrebbe succedere se ci fosse un evento potente come quello stanno temendo gli scienziati per il periodo a cavallo tra questo e il prossimo anno te lo dico chiaro e tondo saremmo in guai seri guai che nemmeno ti immagini nei tuoi incubi più profondi tieni presente che il sole è un milione di volte più grosso della terra le sue macchie solari sono grosse come molte terre e dato che quelle macchie possono generare le esplosioni di cui abbiamo parlato prova ad immaginare la potenza e la quantità di particelle cariche di energia che ci travolgerebbe i satelliti andrebbero subito fuori uso azzerando tutte le comunicazioni i trasformatori di corrente brucerebbero riportandoci un attimo nel più profondo medioevo ecco un elenco dettagliato di ciò che potrebbe accadere le strade sarebbero senza illuminazione rendendo difficile e pericoloso viaggiare di notte i semafori non funzionerebbero causando incidenti i distributori di benzina non potrebbero erogare carburante rendendo impossibile l'uso di veicoli e di fatto definendo la fine dei trasporti i dispositivi di comunicazione come telefoni cellulari e internet cesserebbero di funzionare questo isolerebbe le persone e renderebbe difficile coordinare gli sforzi di risposta gli ospedali non potrebbero più assicurare la vita ai pazienti tenuti in vita da macchine elettriche i servizi di emergenza come polizia e vigili del fuoco avrebbero difficoltà a rispondere alle chiamate di emergenza la produzione e la distribuzione di cibo sarebbero gravemente colpite senza energia elettrica le aziende alimentari non potrebbero produrre o conservare il cibo senza energia elettrica le stazioni di pompaggio non potrebbero fornire acqua corrente questo potrebbe portare a una grave carenza d'acqua senza energia elettrica le persone non potrebbero riscaldare o raffreddare le loro case questo potrebbe portare a problemi di salute soprattutto durante l'inverno e l'estate le aziende non potrebbero funzionare causando un crollo dell'economia questo porterebbe a disoccupazione di massa e potenziali problemi sociali le scuole e le università non potrebbero funzionare normalmente l'apprendimento a distanza sarebbe impossibile senza internet le banche non potrebbero processare le transazioni questo potrebbe portare a un crollo del sistema finanziario come ti sentiresti in uno scenario del genere scrivilo nei commenti ora rispondiamo finalmente alla domanda posta all'inizio ti dovresti preoccupare cosa succederà quest'anno con il massimo solare devi sapere che i solari in genere hanno un periodo di 11 anni questo vuol dire che in 11 anni ciclicamente hanno il loro picco minimo e massimo come possiamo vedere sul sito del noa agenzia governativa molto importante che ci mostra gli andamenti degli eventi solari nel ciclo degli 11 anni che ci sono dei picchi molto alti che non stanno seguendo l'andamento previsto cosa significa questo ci arrivo subito fammi aggiungere l'ultimo elemento l'attività solare viene misurata in base al numero di macchie solari che compaiono sulla sua superficie più o meno ciclicamente più macchie ci sono e più il sole sta liberando energia e più sta attraversando una fase di intensa attività fra il 2024 e il 2025 il sole secondo le osservazioni astrometeorologiche raggiungerà come indicato anche dalle previsioni del noa il suo picco il suo massimo solare ora tieniti forte nel maggio 2023 è stata osservata una macchia solare quattro volte più grande della terra e il 2 dicembre 2023 ne è stata osservata una grande come 60 terre cosa significa quando si osservano più macchie solari se hai seguito il video fino a qui dovresti avere tutti gli elementi per tirare da solo le somme con delle macchie solari del genere e con un'attività solare fuori dagli standard ciclici che indica che il sole si sta preparando in modo molto importante ad una espulsione di massa significa che stiamo per assistere a qualcosa di mostruoso direi quasi divino se non apocalittico pertanto sì dovresti preoccuparti e sperare con tutto te stesso che quando questo brillamento avverrà di non essere nella sua traiettoria o siamo fritti tu che ne pensi scrivilo nei commenti alla prossima